Oggi abbiamo ricevuto anche questo premio che ha in evidenza i numeri, i numeri hanno dimostrato che la città, la tifoseria e quindi ha partecipato pienamente a questa avventura e siamo stati tutti vincenti. Il nuovo Arezzo inizia subito con un trofeo. La travagliata stagione conclusasi con l'eroica salvezza finale viene coronata anche dal successo della Social League. L'Arezzo infatti è la squadra più social della Serie C. Un vero e proprio torneo che ha coinvolto le tifoserie sui social organizzato da super scommesse. Il trofeo è stato consegnato nella sede dell'Arezzo. Il premio è importante che appunto testimonia il grande lavoro svolto dall'ufficio stampa, dal social media manager dell'Arezzo, la professionalità con cui hanno operato e che hanno consentito di vincere la Social Pro League che è una competizione social tra le pagine Facebook delle squadre di Serie C. L'Arezzo in finale è riuscito a battere addirittura un colosso social come la Casertana che era detentrice del titolo e che vinceva da due anni consecutivi il titolo e si è giudicata appunto questa coppa che è un grande traguardo dopo tutte le difficoltate passate durante la stagione. La consegna del trofeo della Social Pro League è stata anche l'occasione per parlare di futuro. La squadra che stanno costruendo devo dire sarà interessante da rappresentare, la prima presentazione sarà del mister lunedì dal canto e poi le varie scelte che insieme al mister stanno facendo sia il direttore generale che il direttore sportivo. Devo dire che lavorano loro dicono 17 ore al giorno, secondo me anche 20 perché spesso non dormono quindi il lavoro sarà sicuramente ben fatto, vista la loro esperienza e l'impegno che stanno mettendo in atto per questa grande situazione. In casa Rezzo è ancora grande il dispiacere per la perdita di Davide Moscardelli, una partenza che forse si poteva evitare. Lui stesso aveva chiesto del tempo perché lo stress dell'ultimo periodo è stato tale per cui un po' tutti avevano chiesto del tempo. Noi in ultimo avevamo detto che un attimo dopo l'iscrizione al campionato avremmo potuto fare un incontro per definire il contratto. Non c'è stata la possibilità perché ci ha anticipato di 24-48 ore e questo ci è molto dispiaciuto perché rientrava nei nostri programmi. Avevamo già anche pensato ad uno slogan legato al marketing e a tutta quella che sarà l'attività degli abbonamenti, proprio con la sua grande immagine al centro della campagna. Purtroppo non ci è stato possibile avere questa possibilità di trattativa, però gli auguriamo assolutamente un bel in bocca al lupo perché ha fatto tanto per questa città.